Alle mie spalle vedete un cantiere digitale. Che significa? E' un cantiere dove al posto della carta si utilizza un tablet. L'oggetto che viene costruito alle mie spalle è stato modellato con il metodo BIM e quindi i lavoratori e gli applicatori quando montano i loro componenti, dei sistemi a perimetro in opera, utilizzano le informazioni prendendole direttamente dal tablet. Non solo la forma dell'oggetto che costruiscono ma anche tutte le indicazioni, quindi informazioni specifiche, sequenze di montaggio e quant'altro, evitando in questo modo di avere la carta e utilizzando quindi anche strumenti come l'esoscheletro che facilitano il lavoro e quello che vogliamo fare qui è dimostrare il vantaggio delle tecnologie digitali, la facilità di utilizzo ma anche il vantaggio che comportano in termini di risparmio di tempo, di denaro e di facilità di posa ovviamente. Grazie. Grazie a tutti.